Come è un incarico di lavoro estremamente impegnativo, come sapete le competenze del Ministero dell'Infrastruttura sono sterminate dal trasporto pubblico locale alle ferrovie, agli aeroporti, al sistema portuale, all'ANAS, alle aree urbane, quindi c'è un campo sterminato di attività rispetto a cui fare delle scelte anche di impegno. Per quello che mi riguarda ovviamente ci sarà un'attenzione particolare per l'area meridionale, la presenza nel governo di esponenti meridionali è non vastissima, quindi bisognerà difendere con grande determinazione gli interessi del Sud, cercando di battersi per avere risorse, cercando di arrivare al completamento di opere fondamentali per il nostro Paese, a cominciare a Salerno Reggio Calabria, e poi ovviamente ci sarà un'attenzione particolare per il territorio della Campania, dalle grandi questioni drammatiche ancora in queste ore dell'area metropolitana di Napoli per il trasporto pubblico locale, a questioni che riguardano molto da vicino il nostro territorio, metropolitana in primo luogo, credo che questa sarà la prima iniziativa che cercherò di prendere, cioè venire a capo del problema metropolitana, e poi l'aeroporto di Salerno-Pontecagnano, il sistema portuale, il collegamento fra comune capoluogo e università, insomma veramente c'è una materia sconfinata nella quale intervenire. Il problema è tentare di portare a Roma le caratteristiche dell'esperienza amministrativa fatta qui, a cominciare da una spinta alla sburocratizzazione radicale, qui non c'è da farsi grandi illusioni, come sapete nei ministeri si respira un'aria tutta particolare, le decisioni sono scandite sui tempi biblici, sulle ere geologiche, non sui tempi dell'economia moderna, quindi bisogna fare una battaglia determinata da subito per sburocratizzare le procedure, cercare di proporre anche innovazioni amministrative e legislative al governo che valgano per tutta Italia, insomma una grande e bella sfida nella quale sarà utile impegnarsi per produrre risultati per i nostri territori. Adesso da vice ministro non potrà essere più sindaco? Ci muoveremo sulla base di quello che prevede la legge. Alle tante felicitazioni, quella di Vetrella è giunta? Non ho avuto tempo per vedere un po' messaggi, telefonate, sinceramente è stata una mattinata di lavoro, un po' disturbata, un po' di chiasso che c'era a Piazza Mendola, ma per il resto sono sentito con lupi ovviamente, con colleghi, amici, insomma si tratta di impostare il lavoro dall'inizio alla prossima settimana, o non abbiamo ancora fatto il giuramento, quindi non andate di fretta. Per quanto riguarda le opere in corso a Salerno ci sarà una svolta? Le opere di Salerno saranno completate tutte, dalla prima all'ultima, sarà completata Piazza della Libertà, il Crescent, la Stazione Marittima, la Lungo Irno, la Città della Giudiziaria, il Porto Marina d'Arechi. Tutto il programma fondamentale di grandi opere andrà avanti, auspicabilmente con qualche risorsa in più e con possibilità che magari dal solo Comune di Salerno è difficile mettere in campo. Quindi questo programma, sia chiaro a tutti, dovrà essere completato per la ragione molto semplice che a questo programma è legato il futuro economico della nostra città, la possibilità di vita per i nostri figli. Quindi non è un fatto estetico, è un fatto di economia reale che deve essere portato a compimento. Il Consiglio Comunale è pienamente insediato, andrà avanti fino a scadenza naturale, quindi le opere saranno completate e come potete immaginare io mica vado in Svezia, sempre a Salerno. Grazie. 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 Grazie.